Ciao a tutti, ti senti insicura? Insicuro? Questo video cambierà tutto. In questo video voglio insegnarti come acquisire la necessaria sicurezza per stare bene, in armonia, con te stessa, con te stesso, ma con tutti gli altri, con tutto ciò che ti circonda, e raggiungere benefici dell'amore, della tranquillità e della felicità. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. E ti ricordo il mio seminario online sulla legge d'attrazione che farò martedì 5 maggio dalle ore 20.45 alle 23 sul mio canale Felicità e Benessere. Ti lascio il link qua sotto. Per partecipare basta che vai sul mio canale Felicità e Benessere, sulla home page, tastino abbonati, affianca il tastino iscriviti, se non lo vedi dall'app del cellulare vai su col computer e seleziona, clicca su Abbonate e poi seleziona Seminario online. E veniamo all'insicurezza. Allora, cosa vuol dire essere insicuri? O insicure? Intanto l'insicurezza si manifesta, può manifestarsi in diverse aree della nostra vita. Ci sono persone che si sentono insicure in amore, altre che si sentono insicure nella vita relazionale, altre che si sentono, relazionale intendo, nella gestione delle relazioni in generale, altre che si sentono insicure nel fare un lavoro, si sentono insicure nello scegliere, nel decidere, nel conquistare. Allora, le insicurezze cosa sono? Sono delle antiche paure che noi avevamo da bambini che si rimanifestano nell'età adulta. Queste antiche paure che ci hanno generato inconsapevolmente, più delle volte i nostri genitori, e più delle volte ce le hanno generate perché loro stessi avevano queste paure. Ad esempio, un genitore che ha avuto dei fallimenti da un punto di vista lavorativo, bene, è proprio dal punto di vista lavorativo che si sentirà insicuro e quindi trasferirà queste insicurezze sul figlio o sulla figlia. Credendo di aiutarlo, aiutarla a non averla, invece andrà a peggiorare la situazione. Lo stesso discorso, dicasi, per le relazioni sentimentali effettive o per le relazioni in genere. Tutto quello che un genitore ha temuto normalmente tende a trasferirlo sul figlio. È lì che si misurerà sul figlio o sulla figlia, si misurerà la partita. In più c'è quello che il bambino o la bambina percepisce nei primi anni di vita, in relazione ai genitori, la percezione che lei ha, ma la percezione anche, non soltanto di genitori, ma anche di altre figure significative. Detto fatto che, cosa capita? Capita che nella nostra vita iniziamo ad avere delle insicurezze. Cioè, non ci sentiamo sicuri nel prendere decisioni. Oppure nel portare avanti delle azioni. Cioè, prendiamo le decisioni, ma non facciamo, per paura. Ci sono molte persone che pensano una cosa, la farò, la farò, la farò, decidono di farla, ma poi di fatto non la fanno mai. Proprio perché hanno delle insicurezze. Alte persone, invece, non arrivano neanche a decidere. Restano bloccate ancora prima. Sognano, ma poi di fatto non fanno. Ora, come possiamo superare queste paure? Beh, dovremmo riabilitare il passato. Cosa significa riabilitare il passato? Beh, vuol dire semplicemente che dobbiamo trasformare il passato in qualcosa di diverso. Dobbiamo trasformare il passato che sta nelle nostre memorie. La memoria emozionale del passato dobbiamo trasformarla in modo tale che le nostre paure possano diventare le nostre stesse risorse. Perché tieni presente che ogni paura è di fatto un'energia. Quando tu hai paura, di fatto hai un'energia molto forte dentro di te. L'energia della paura. E questa energia può essere utilizzata per superare la paura stessa. È un po' come dire uso lo stesso veleno per eliminare il veleno. Ma praticamente come possiamo agire? Beh, facciamo un esempio. Supponiamo che un uomo, in questo caso, faccio un esempio, ma poi vale, si può adattare gli uomini, le donne a tutte le situazioni, abbia, si sente insicuro di approcciare una donna, una donna che non conosce, ad esempio, o una donna in una festa, non so, una donna che vede che gli piace, perché ha paura, di che cosa? Eh beh, ha paura di essere rifiutato, che lei non lo prende in considerazione. Questa paura, ripeto, non è mai razionale. Perché la mente logica direbbe, beh, prova e come va, va. Se va bene, va bene. Se non va bene, amen. Ci hai provato, ma non cambia nulla nella tua vita. E invece no, perché se tu temi il rifiuto, piuttosto che essere rifiutato, sei disposto a, diciamo, a non provarci. Lamentandoti, ovviamente. Ma tutte le persone che hanno paura di essere rifiutati è perché hanno vissuto talmente forte il rifiuto da bambini che adesso lo temono, lo temono tantissimo. E quindi devi dimostrare alla tua parte emotiva che nel rifiuto non c'è nulla di male. Non succede nulla. Devi provare. È come un bambino che teme l'acqua perché magari ha avuto, che ne so, una volta è andata al mare, è arrivata l'onda, ha bevuto, adesso teme tantissimo l'acqua. Ma fin tanto che non prenderà confidenza con l'acqua stessa, non riuscirà a ristabilire un rapporto ottimale con l'acqua. E quindi in questo caso, fin tanto che tu non prendi confidenza col tuo rifiuto, non riuscirai a ristabilire un rapporto importante col tuo rifiuto e renderti conto che il rifiuto non è cattivo, è soltanto un insegnamento che tu puoi ricevere. E allora se questa persona riesce a convincersi di questo, può decidere deliberatamente di approcciare una donna, ma anche con l'obiettivo di essere rifiutato. Proprio con l'obiettivo di conoscere il rifiuto e di stare nel rifiuto. Ecco che se questo proverà una volta e mettiamo verrà rifiutato, starà dentro il rifiuto, questo rifiuto inizierà a vederlo con un'altra ottica, inizierà a diventare una sensazione amica, non più una sensazione nemica, inizierà a diventare parte di noi stessi. E allora noi non possiamo rifiutare il rifiuto se il rifiuto è parte di noi stessi. Ecco che quando scatta questo insight, quando ti rendi conto che tutte le cose che ti facevano soffrire sono parte di te stessa, di te stesso, e puoi tranquillamente sperimentarle, puoi tranquillamente viverle senza nessuna, senza nessun, senza che accada nulla di strano. Allora dentro di te si accenderà un'energia, un'energia molto forte che ti spingerà a fare proprio quello che non avresti mai fatto, cioè provarci in questo caso per viverti l'esperienza del rifiuto, cioè l'esperienza che volevi tanto rifuggire, te la vai a cercare, te la vai a cercare deliberatamente per familiarizzarti con questa energia stessa, per familiarizzarti con questa paura stessa. E quando avrai questa consapevolezza, la vita ti si trasformerà, cambierà radicalmente dentro di te, nulla sarà più come era prima. Quindi quello che devi fare per superare le tue paure è semplicemente renderti conto che la paura è una sensazione, cioè per superare la tua insicurezza devi affrontare le tue paure, viverti la sensazione che ti dà la paura legata all'insicurezza, sia il rifiuto, sia l'abbandono, vivertela, deliberatamente, non fuggire più. Si diceva che se tu non guardi dentro al pozzo sarà il pozzo a guardare dentro di te. Ecco, quindi se non guardi i tuoi demoni saranno i demoni a guardare te. Quindi inizia a guardarli questi demoni, immergeti tranquillamente, e vedrai che non ti succederà niente di male, vedrai che potrai tranquillamente fare amicizia con questa sensazione, che non dico che diventerà piacevole, ma diventerà parte della tua vita. E allora automaticamente si sbloccheranno tutti tutte le paure infantili, proprio come un effetto domino, riequilibrando il presente vai all'indietro e si riequilibra rapidamente il passato. Prova a farlo e vedrai che le tue insicurezze spariranno, si dissolveranno come nebbia il sole. Lascia nei commenti quello che pensi di questa tecnica, di questa strategia e così diamo un contributo a tutto il gruppo, insomma, chi segue. Quindi lascia nei tuoi commenti se mai ti sei sentito insicuro, insicuro, come hai affrontato questa insicurezza. E poi iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. E ti ricordo l'appuntamento col mio seminario online sul canale Felicità Benessere martedì 5 maggio dagli ore 20.30 alle 23 per partecipare basta che vai sulla home page del canale Felicità Benessere e tastino abbonati a fianco al tastino iscriviti e scegli abbonamento seminario online. Se nell'app del cellulare non c'è vai con il computer. Per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo. Ciao!